La donna che li aveva convocati per quella riunione fuori dal tempo e dallo spazio, li guardò severa, si voltò e senza dire una parola uscì dalla stanza. I quattro rimasero immobili sulle loro sedie. Nessuno osò più ridere o fare battute, nessuno osò più nemmeno parlare. Si limitarono a guardarsi con aria di sfida, mentre l'attenzione che stava velocemente riempiendo la stanza cominciava a essere evidente e senza appello i giochi erano finiti. Avevano messo sul tavolo le loro carte e ora erano in balia di una forza superiore con la quale non si poteva scherzare. I quattro attesero silenti il loro destino. Grazie a tutti.